Suso in Italia bella, giace un laco, a piede l'alpe che serra la magna sovra Tiralli. Canome Benaco Canome Benaco Canome Benaco Canome 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 Benaco Canome Benaco Canome Canome Benaco Canome Benaco Canome Benaco Caino allora si ricordò del signore e gli si rivolse dicendo, signore, signore, è così che mantenete la vostra parola? E che parola ti ho dato? Rispose il signore, ma come? Non mi avete detto fai bene quando portavo le fascine di spine? E se io ho fatto bene, perché non mi date adesso un po' di conforto? Hai ragione, tu hai ucciso tuo fratello e per questo meriti di essere castigato. E' vero, tu hai raccolto le spine e meriti un premio. Pertanto io comando che nelle dodici ore del giorno tu rimanga nell'inferno tormentato dai diavoli, ma che nelle dodici ore della notte tu salga sulla luna dove non riposerai un istante e porterai addosso tre fasci di spine. Da allora Caino sta tutta la notte sulla luna affinché tutti lo possano sorvegliare e si porta i tre fasci sulle spalle. Guardate bene, sembrano piccole macchie. Guardate bene, sembrano piccole macchie.